La stella della musica italiana, Baby K, con oltre 300 milioni di visualizzazioni entra di fatto nell'Olimpo Mondiale dei Grandi della Musica. Complimenti Baby K. Senti, tu sei cresciuta, sei nata a Singapore, sei cresciuta a Londra e vivi in Italia. Direi che è un bel mix. Assolutamente sì, è un bel mix, ma pensa un po', sono arrivata fino a Melfi per venire a cantare sul palco di Battiti Live, quindi sì, ho fatto un bel giro, ma sono contenta di essere qui questa sera. Grazie per questo regalo, ti stanno aspettando, quindi mettiamo la quinta perché dobbiamo cominciare a correre con Voglio Ballare Con Te e il suo ultimo singolo da 0 a 100 nel cuore della musica, Baby K! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.